nella prossima e emozionante puntata di segreti di famiglia il agosto assisteremo a un momento di alta tensione e sconvolgimenti familiari il fulcro sarà l'atteso e carico confronto tra jayleen ed enjin quest'ultimo travolto da un turbine di emozioni contrastanti enjin è tormentato dal timore crescente di essere smascherato aggiungendo ulteriori ombre al suo spirito già appesantito ci sono i profondi rimorsi per la tragica fine di inji un segreto oscuro che lo perseguita incessantemente l'ira per il sorprendente e inatteso matrimonio di jayleen e ilgas è la scintilla che alimenta il fuoco della sua disperazione nel cuore di una confidenza con sua madre dove enjin cerca disperatamente un po' di conforto la situazione prende una svolta drammatica con l'inaspettato arrivo di ghul ancora turbata dalla recente scarcerazione di jinar si rivolge a enjin in cerca di sostegno tra le lacrime maledice l'ignoto assassino della sua amata figlia e abbraccia enjin come se fosse suo figlio ignara della verità che si annida nel suo cuore enjin con le lacrime agli occhi che lottano per farsi strada si trova sull'orlo di una crisi sentendosi soffocare sotto il peso dei suoi segreti trova la forza di allontanarsi fingendo una chiamata urgente dall'ufficio parse in una mossa disperata per far luce sui misteri che lo circondano si rivolge ai saggi mentori del suo passato accademico i suoi vecchi professori di legge è proprio uno di questi insegnanti a spalancare una porta verso rivelazioni sorprendenti scopre che il misterioso mert non è altro che il nonno di il gas e che il suo trascorso con la giustizia è tutt'altro che limpido sebbene i dettagli specifici delle sue malefatte rimangano avvolti nel mistero il professore mette a disposizione di pars i fascicoli del caso un gesto che potrebbe cambiare il corso delle indagini mentre pars si immerge nello studio di documenti che potrebbero rivelare oscure verità altrove un dramma si consuma in silenzio Ghinare e Zafer giacciono immobili al suolo il destino ha fermato il loro respiro? sono vittime di un tragico destino o semplicemente tramortiti? il tempo sembra essersi fermato e, incredibilmente, nessuno sembra essersi accorto della loro assenza Engin, il cuore spezzato e l'anima in tumulto, vaga solo e disperato il rimorso lo attanaglia mentre ripensa al tragico momento in cui ha sottratto la vita a Ingi un peso insopportabile che sembra schiacciarlo ad ogni passo mentre Engin combatte con i suoi demoni interiori altrove la situazione di Osman precipita in un vortice di sospetti e tradimenti la tensione sale quando Zumruth, la sua amante decide di non confermare il suo alibi per la sera dell'omicidio questo abbandono lascia Osman esposto e vulnerabile agli occhi della giustizia alimentando i sospetti di Pars Pars, con il suo intuito affilato, sospetta di Osman e del movente che potrebbe averlo spinto a compiere l'irreparabile la verità emerge attraverso un intenso flashback di Osman Ingi aveva scoperto la sua relazione extraconiugale e lo aveva minacciato svelando il possibile movente dietro il suo tragico destino queste rivelazioni costringono Pars ad agire con determinazione emette un mandato di perquisizione per la casa di Osman la famiglia di Osman, ora al centro di un vortice giudiziario si trova ad affrontare le conseguenze delle scelte passate Iekta, l'avvocato fedele, si trova ad affrontare una situazione ineludibile le sue mani sono legate e l'unico percorso possibile è accettare il corso degli eventi che si stanno svolgendo con intensità crescente Jailin e Ilgas, intanto, giungono in procura sotto sguardi indiscreti e pesanti convinti che l'attenzione sia catalizzata dal loro recente e sorprendente matrimonio non immaginano che il vero fulcro delle attenzioni sia ben altro infatti, con un colpo di scena che sconvolge Ilgas fino al midollo un altro procuratore gli rivela che è sotto indagine il suo passato e le sue azioni sono ora sotto la lente con conseguenze devastanti Ilgas viene deposto dal suo incarico di vice procuratore capo un titolo ora nelle mani del determinato Pars Contemporaneamente un altro mistero si dipana con Eren che segue le tracce di una macchina sospetta recentemente scoperta da Jailin e Ilgas All'interno del veicolo, una macchia di sangue promette di rivelare segreti ancora più oscuri Se il sangue dovesse risultare appartenere a Inji Jailin avrà una carta cruciale da giocare potrà infatti recarsi da Pars con documenti inconfutabili che dimostrano che quella stessa macchina è stata affittata da Engin poco prima dell'omicidio di Inji Metin, animato da uno spirito sereno è impegnato nei preparativi di una cena speciale per i suoi figli ignaro delle oscure nubi che si addensano all'orizzonte La sua tranquillità è infranta dall'assenza inaspettata di Ginar che lui pensa sia semplicemente addormentato nella sua camera Ma la realtà è ben diversa e ben più inquietante Intanto, un fitto drappo di mistero e tensione avvolge la casa di Osman agenti di polizia e tecnici della scientifica sono già posizionati per una perquisizione meticolosa Parla, rapida e attenta è la prima a scoprire l'imminente irruzione e corre ad avvertire sua madre e sua nonna della tempesta che sta per abbattersi su di loro La scoperta che segue è sconvolgente La casa di Osman, infatti, è diventata il deposito di prove incriminanti piazzate astutamente da Yekta tramite il suo fidato Nurettin Un orecchino e un posacenere, entrambi collegati all'omicidio di Inji emergono dagli angoli più nascosti della casa Ghul, Aileen e Parla sono travolte da un'ondata di disperazione e incredulità incapaci di comprendere come quegli oggetti siano finiti sotto il loro tetto In questo scenario di caos e accusa Yekta osserva con una fredda soddisfazione il successo del suo piano Con un gioco di astuzia e manipolazione ha incriminato Osman trovando il capro espiatorio perfetto per proteggere suo figlio Engin dalle grinfie della giustizia Engin si trova immerso in un mare di rimorsi che minacciano di sommergerlo Ogni momento di solitudine risuona con gli echi dei suoi errori passati In uno stato di profondo turbamento si chiude nell'ufficio che condivide con Jailene rifugiandosi nell'alcol, nella vana speranza di trovare un po' di pace Le immagini dell'omicidio di Inji si intrecciano con quelle dei suoi inganni verso Jailene e sua madre rendendo ogni respiro un tormento Nel frattempo una svolta giunge attraverso Eren che porta un barlume di speranza in mezzo al caos Con un tono solenne ma sollevato informa Jailene che il sangue trovato nella macchina sospetta è effettivamente di Inji Questa conferma apre una nuova via per Jailene che ora detiene le prove cruciali per smascherare il vero colpevole Con i documenti del noleggio di quella macchina effettuato da Engin in mano Jailene si prepara a fare una mossa decisiva presentandoli a Pars Jailene si muove con cautela e astuzia Con i documenti del noleggio della macchina saldamente in mano si dirige da Pars Tuttavia adotta un approccio sottile minimizzando l'importanza delle informazioni che porta Non vuole che Pars intuisca il suo vero intento dirigere le indagini verso Engin evitando così di destare sospetti che potrebbero sabotare i suoi piani Ma mentre Jailene cerca di mascherare la sua mossa il destino sembra giocare a suo favore Pars riceve quasi subito la notizia che nella stessa macchina ora legata a Jailene è stato ritrovato il sangue di Inji Il legame tra i documenti appena presentati da Jailene e le prove forensi diventa inevitabile Pars, acuto e perspicace non impiega molto a realizzare che sia Jailene che Ren hanno orchestrato la condivisione di questi indizi cruciali anche se Jailene sembra trionfante quasi euforica per aver finalmente ottenuto la prova che incrimina colui che ha tradito la sua fiducia La rivelazione porta Jailene a riflettere dolorosamente sul passato rivivendo il momento in cui ha scoperto che il suo migliore amico aveva brutalmente tradito la sua fiducia uccidendo sua sorella La rabbia e il dolore si mescolano turbando profondamente Jailene che vede in questo sviluppo un'opportunità per ottenere giustizia ma anche la dolorosa conferma di un tradimento inimmaginabile Jailene, consumata dalla rabbia e dal desiderio di vendetta esce precipitosamente dalla procura costruendo intorno a sé un muro di silenzio impenetrabile rifiuta ostinatamente di rispondere alle incessanti chiamate che riceve Parallelamente, Ilgas, disperato per ristabilire un contatto continua a chiamare Jailene che respinge freddamente ogni suo tentativo di comunicazione questa serie di rifiuti aggiunge ulteriore tensione alla già carica atmosfera nel frattempo Ilgas riceve una chiamata inaspettata da suo nonno Mert che porta con sé richieste audaci e una certa urgenza dopo aver assistito Ilgas nella ricerca di un tassista Mert ora esige che Guinar e Daphne gli facciano visita nonostante sia ancora in detenzione questa richiesta rompe una lunga tradizione mantenuta da Metin che aveva deciso di non permettere ai nipoti più giovani di incontrare il nonno Mert, con la sua influenza ancora potente nonostante gli anni trascorsi dietro le sbarre insiste affinché questa separazione familiare finisca mettendo ulteriore pressione su una famiglia già divisa da segreti e rancori Nel frattempo, l'intrepido Pars sempre più sospettoso e determinato a disvelare ogni angolo oscuro di questa intricata rete di segreti incarica il suo assistente di immergersi completamente nello studio dei fascicoli legati a Mert questa mossa è calcolata per svelare ogni dettaglio nascosto del passato di Mert in un tentativo di comprendere meglio le forze che muovono gli eventi attuali e forse scoprire qualcosa che potrebbe cambiare il corso delle indagini una cena tranquilla si trasforma in un momento di sconcertante rivelazione Metin, intento a preparare il pasto serale si rende conto con crescente apprensione che suo figlio Ginar è assente il suo istinto paterno lo spinge fuori casa dove un incontro agghiacciante lo attende Ginar, ferito e visibilmente scosso, appare davanti a lui la tensione si taglia con il coltello quando Ginar, tremante e sotto shock confessa a Metin di aver ucciso Zafer le parole di suo figlio risuonano come un tuono lasciando Metin senza parole in un gesto di puro istinto paterno abbraccia il figlio piangente e sconvolto cercando di offrirgli conforto in un momento di disperata necessità mentre questo dramma familiare si svolge Ilgas continua a cercare disperatamente di raggiungere Jailene ma i suoi tentativi rimangono senza risposta Altrove, Yekta rientra a casa con un senso di soddisfazione torbida ha abilmente manipolato le circostanze per incolpare Osman dell'omicidio effettivamente commesso da suo figlio Engin riuscendo così a scagionarlo Tuttavia, non tutti vedono di buon occhio le sue azioni La Keen, sollevato per la sicurezza di suo figlio non può fare a meno di biasimare Yekta per aver incolpato un innocente e per il suo apparente compiacimento in questa manipolazione oscura Jailene, carica di rabbia e risentimento per la tragica perdita di sua sorella si dirige decisa verso l'ufficio che condivide con Engin l'uomo che una volta considerava un amico ma che ora vede solo come l'assassino di sua sorella Il suo silenzio verso Ilgas è stato un preludio a questo confronto inevitabile Quando entra nell'ufficio, il panorama che si presenta davanti ai suoi occhi è quello di un Engin distrutto dall'alcol e dalle lacrime È il momento della verità e Jailene non perde tempo Lo affronta con determinazione rivelando di aver scoperto tutto e chiedendogli spiegazioni sull'omicidio La reazione di Engin è immediata e violenta Il suo volto, prima segnato dalla tristezza si contorce in una maschera di rabbia Con un urlo carico di emozioni torbide le grida contro affermando che Ingi meritava di morire Sostiene con ferocia che non si pente di aver tolto la vita a una ragazza che secondo lui si era approfittata della sua buona fede manipolandolo e nutrendo false speranze Questo scontro frontale tra Jailene e Engin è carico di pathos e disperazione un duello verbale che mette a nudo le ferite e le oscure motivazioni che hanno spinto Engin a compiere un atto così estremo La rabbia di Jailene esplode incontrollata e in un accesso di furia inizia a colpire Engin La lotta si intensifica fino a quando Jailene, accecata dalla rabbia spinge Engin sulla scrivania e afferra un grosso posacenere brandendolo come arma minacciando di colpire Engin alla testa In quel momento di estrema tensione si rende conto delle conseguenze delle sue azioni spaventata dalle proprie reazioni violente Mentre questa scena di caos si svolge Ilgas, preoccupato e intuendo che l'assenza di Jailene è dovuta al suo confronto con Engin si precipita nell'ufficio Trova Jailene a terra, apparentemente stordita forse colpita da Engin nel tentativo di fuggire In un impeto di determinazione e coraggio Ilgas non esita un attimo aveva già allertato Eren e insieme si lanciano all'inseguimento di Engin riuscendo a braccarlo in pochi minuti La cattura di Engin è rapida e decisiva Eren lo arresta e lo conduce alla stazione di polizia Nel frattempo, Ilgas, tornato da Jailene è sopraffatto dalla preoccupazione per lei Nonostante il sollievo per averla trovata viva non può fare a meno di rimproverarla severamente per aver rischiato così tanto mettendosi in una situazione così pericolosa In un momento di riflessione e vulnerabilità Jailene rivela a Ilgas la turbolenza emotiva che ha affrontato nell'ufficio di Engin Con voce tremante spiega di aver desiderato affrontare l'uomo che ha ucciso sua sorella di volerlo guardare negli occhi e cercare una qualche forma di giustizia o spiegazione Tuttavia, la realtà è stata molto più intensa e oscura di quanto avesse immaginato Per un attimo fugace, un attimo di pura rabbia ha pensato di poter uccidere Engin La paura che ha provato di fronte a questa propria capacità di violenza l'ha lasciata profondamente scossa Ilgas, ascoltando attentamente, si avvicina per offrire conforto Con parole calme e rassicuranti ricorda a Jailene che chiunque può cedere alla rabbia in momenti di estrema tensione Ma il fatto che lei abbia resistito all'impulso finale e deciso di non compiere l'irreparabile dimostra la sua forza di carattere e la sua bontà intrinseca Con questa comprensione condivisa, i due si abbracciano trovando conforto reciproco in mezzo al caos delle loro vite tormentate Metin si ritrova immerso in una situazione disperata mentre cerca di proteggere suo figlio Ginar Dopo aver medicato le ferite di Ginar Metin si dedica con urgenza a eliminare qualsiasi traccia che possa collegare il figlio all'omicidio di Zafer Raccoglie con cura tutti i vestiti di Ginar macchiati di sangue e li mette in un sacco di plastica pronti per essere fatti sparire definitivamente Tuttavia, nel caos e nella fretta Metin lascia incustodito il sacco nel corridoio per alcuni minuti cruciali Non si accorge che Defne, nella sua innocenza, cercando un sollievo dal freddo mentre va a prendere un gelato dal freezer, afferra un calzino dal sacco Ignara delle macabre implicazioni di quel gesto, Defne utilizza il calzino per scaldarsi le mani Dopo aver ottenuto ciò che cercava, Defne si reca in camera sua, dove, senza pensarci, getta il calzino dietro al letto distratta dalla prospettiva di gustare il suo gelato Metin, ignaro di quanto accaduto raccoglie il sacco con i vestiti ancora sporchi di sangue e lascia la casa convinto di aver eliminato ogni possibile prova incriminante Questo dettaglio sfuggito potrebbe rivelarsi un grave errore lasciando una traccia involontaria che potrebbe cambiare il corso delle indagini Alla stazione di polizia, Pars è pronto ad interrogare Engin ma il giovane, ben conscio dei suoi diritti, rifiuta di parlare senza la presenza del suo avvocato che non è altri che suo padre, Yekta Mentre Pars si prepara a confrontarsi con Engin Yekta è altrove, completamente disconnesso dalle immediate preoccupazioni legali del figlio Si trova immerso nei piaceri di una cena squisita riflettendo compiaciuto sul suo astuto piano per incastrare Osman e salvare Engin dalle grinfie della giustizia La sua autocompiacenza è però interrotta bruscamente da una chiamata di Pars che lo convoca urgentemente per assistere il figlio durante l'interrogatorio Con una mossa calcolata, Yekta finge di non essere in città una scusa strategica per ritardare l'interrogatorio e guadagnare tempo posticipando così l'appuntamento al giorno successivo La sua assenza forza Pars a rinviare l'interrogatorio e di conseguenza Engin viene condotto in una cella dove si trova faccia a faccia con Osman Entrambi sono accusati dello stesso omicidio ma solo Engin conosce l'amaro segreto che suo padre ha ordito una trappola per incastrare l'innocente Osman Metin, guidato dalle indicazioni di Ginar si trova di fronte alla tragica scena nel magazzino isolato Il corpo senza vita di Zafer giace freddo sul pavimento Il primo impatto è devastante e Metin è sopraffatto da un senso di sconforto Ma la necessità di proteggere suo figlio lo spinge oltre il suo dolore e con mano ferma inizia a cancellare ogni traccia del crimine Con decisioni rapide e disperate Metin brucia il sacco contenente i vestiti insanguinati di Ginar e, in un gesto di fredda risolutezza trasferisce il corpo di Zafer nel portabagagli della sua auto Proprio mentre si prepara a lasciare il luogo del delitto per disfarsi del corpo il suo telefono squilla è sua figlia Daphne in preda al panico e alle lacrime che lo implora di tornare immediatamente a casa Ginar sta perdendo molto sangue e la situazione sembra disperata Colto da un conflitto interiore tra la necessità di eliminare le prove e l'urgenza di salvare suo figlio Metin non esita Lascia la scena con il cadavere ancora nel portabagagli e si precipita verso casa Ogni secondo è prezioso e, mentre corre attraverso le strade notturne il peso del cadavere nel retro della macchina è un macabro promemoria delle scelte oscure che ha compiuto Ilgas e Jailin si affrettano a tornare a casa proprio mentre Metin è travolto dall'ansia per le condizioni di Ginar necessitano di un trasporto urgente per l'ospedale ma la macchina di Ilgas rifiuta di partire in una situazione disperata decidono di salire tutti nella macchina di Metin lui è assalito dal panico all'idea che qualcuno possa scoprire il cadavere nascosto nel portabagagli ma la situazione critica richiede azioni immediate e non c'è tempo per esitazioni partono immediatamente verso l'ospedale Una volta giunti Ginar viene rapidamente preso in carico dai medici e ricoverato Per Metin questa diventa l'opportunità di completare il suo oscuro compito di sbarazzarsi del corpo di Zafer Tuttavia, prima che possa escogitare un piano Ilgas e Jailin prendono la sua macchina e se ne vanno ignari del macabro segreto che essa custodisce La preoccupazione di Metin cresce esponenzialmente poiché ora il rischio che il suo terribile segreto venga scoperto è maggiore che mai Nel frattempo, a casa Parla è profondamente preoccupata per la situazione di suo padre e suggerisce a sua madre Aileen di chiamare Jailin per chiederle aiuto ma Aileen è risoluta nel suo rifiuto attribuisce a sua sorella la colpa per l'incriminazione del marito Aileen è convinta che Ginar sia il vero colpevole e che Jailin abbia erroneamente contribuito a scagionarlo complicando ulteriormente la situazione Nonostante il chiaro dissenso di sua madre Parla prende l'iniziativa e contatta Jailin rivelando tutto ciò che sa Jailin con la sua acuta intuizione comprende rapidamente che dietro alle accuse a Osman si nasconde una trappola ben orchestrata da Jekta per proteggere Engin Determinata a correggere l'ingiustizia Jailin insieme a Ilgas decide di agire Si dirigono nuovamente alla stazione di polizia per offrire il loro aiuto a Osman ma ancora una volta utilizzano la macchina di Metin inconsapevoli del macabro segreto che essa nasconde nel portabagagli La tensione sale mentre si avvicinano alla stazione di polizia portando con sé, senza saperlo, il corpo senza vita di Zafer Queste anticipazioni del 4 agosto di Segreti di Famiglia si chiudono su un'atmosfera carica di suspense Jailin e Ilgas sono in viaggio verso una potenziale svolta nel caso mentre Metin è lasciato a gestire il panico crescente per le implicazioni di ciò che ha nascosto Io sono Isabella e come sempre vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video Grazie